Trasgressivo, anticonformista e libero, Haring era un artista unico e quella di Simply Haring sarà un'occasione preziosa per approfondirne le tematiche più forti, attuali oggi come allora. La lotta politica, i conflitti sociali, la meccanica della comunicazione, l'alienazione dell'individuo. Un evento culturale di importanza nazionale, la mostra dedicata a Kit Haring, che rende omaggio alla modernità di un artista, hanno avvenuto non solo tra i più noti esponenti della pop art degli anni Ottanta, ma anche tra i padri della grafica e della comunicazione contemporanea. La particolarità però di questa mostra dedicata all'artista è che, con 62 opere originali, denominata Simply Haring, è stata allestita in un luogo principe per lo shopping. I centri commerciali sono luoghi pulsanti di vita e noi questo facciamo. Non badiamo solamente alla parte commerciale, ma la parte commerciale è una parte di quello che noi facciamo ed è la parte esperienziale di cui stiamo parlando oggi ed è questo che stiamo facendo. Stiamo costruendo un'esperienza per i nostri visitatori e anche per le scuole che verranno, un'esperienza che speriamo, anzi sono convinto, porterà molta gente a vedere l'arte contemporanea in un altro modo, ma anche i centri commerciali in un altro modo. Come ulteriore servizio all'ingresso, i visitatori potranno accedere alle audioguide e utilizzare i QR code a fianco delle opere. Il nostro intento è quello ovviamente di far vedere, far percepire l'arte a più persone possibili, al di fuori delle istituzioni, cioè dei musei stessi, in modo tale che non debbano pagare un biglietto, ma che possano, in luoghi di incontro, riuscire a ricevere arte, a ricevere cultura e quindi a interessarsi sempre di più, anche per le giovani generazioni, a questi temi che, ad esempio, Keith Haring, come artista contemporaneo, riesce a trasmettere in maniera molto semplice, diretta e quindi è estremamente importante, anche perché sono tematiche che sono estremamente contemporanee.